Vede la volante della polizia e cerca di sbarazzarsi di un bilancino di precisione e di un coltello a serramanico, ma il maldestro tentativo non passa inosservato agli agenti che lo fermano e lo trovano in possesso di 20 grammi di hashish e 195 euro in contanti. Protagonista del goffo tentativo di eludere i controlli della polizia, un ragazzo italiano di poco più di 20 anni che stazionava in piazza Matteotti nel centro di Pietrasanta nella serata di sabato scorso. Alla vista della volante il giovane ha gettato a terra il materiale utilizzato per lo spaccio di droga, gesto che non ha fatto altro che attirare su di sé l'attenzione della pattuglia che è immediatamente provveduto a fermarlo per identificarlo. Vistosi ormai scoperto il 22enne ha spontaneamente consegnato alle agenti la droga e un altro bilancino in suo possesso. Per il giovane quindi scattata la denuncia per possesso di stupefacente ai fini di spaccio e per porto abusivo di armi. A sorprendere semmai l'attività di spaccio nella centralissima piazza Matteotti a due passi dal palazzo municipale, fatto che allarma particolarmente in vista della stagione turistica ormai alle porte.